Prima deve venire Abele, dopo Caino. Il Senato cancella il reato di clandestinità, ma la Lega Nord non ci sta. E per dimostrarlo, questa mattina sotto la sede della regione, in piazza Oberdan, un gruppo di esponenti del partito ha manifestato pacificamente, esponendo uno striscione molto chiaro circa la loro protesta. La Camera sta approvando il quarto svuotacarceri, che prevede lo sconto di 5 mesi di carcere ogni anno di detenzione, prevede un risarcimento di 100 euro al giorno per ogni detenuto, 3.000 euro al mese. Terzo, prevede degli incentivi alle aziende che assumono detenuti, incentivi più alti rispetto a quelli che ci sarebbero se assumono un giovane che non ha commesso alcun tipo di reato. Con la cancellazione del reato di clandestinità, l'ingresso in Italia senza permesso diventa illecito amministrativo, mentre restano reati tutte le altre fattispecie, come quella, ad esempio, di aver ignorato l'obbligo di rimpatrio o in caso di recidiva, cioè quando lo straniero espulso torna in Italia. Voglio ricordare agli ascoltatori e telespettatori che senza il reato di migrazione clandestina le direttive europee impediscono l'espulsione dei clandestini stessi. Dopo bisogna quindi, la gente farà le proprie valutazioni, capirà se votare un partito che vuole tenere clandestini e aiutare soltanto i detenuti o chi invece vuole mandare a casa i clandestini e aiutare le persone oneste. La protesta della Lega non si ferma qui. L'intenzione del partito è quella di far capire che la decisione del Senato danneggia i cittadini italiani, soprattutto in un periodo economico difficile come quello attuale. Chiediamo che vengano ritirati in questi provvedimenti, come lo svuota carcere, oppure ovviamente che l'Aula li bocci, perché riteniamo inaccettabile che in un momento di crisi economica drammatica, crisi economica che vivono imprese e cittadini, si pensi soltanto a regalare soldi a chi ha commesso dei reati e non a chi sta vivendo un momento drammatico di crisi e si è sempre comportato in modo onesto.